giorno muflone numero 2 e adesso abbiamo anche il pilota mascherato casco in testa sempre acceso sempre sempre occhiali prudenza io ce l'ho voi non ce l'avete la prudenza capito siamo messi così adesso voi capite voi capite bene guardate qui l'essere umano il paradiso del disagio ecco fatto ecco fatto un muflone tour dei due dai diamo allo iscriviti al suo canale escriviti al canale no calm strass incomincia la strada di montagna più bella dell'austria andiamo a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima volta del Nogalstrasse del buflone più grande. Scusa, ho sgodazzato. Grazie, grazie Luca. Grazie che mi hai portato con questa bellissima frata. E' infatti già arrivato l'adesivo al suo posto. Tu ce l'avevi già, c'è il doppione. Eccolo qua. E infatti, eccolo qua. Stavo cercando di testare le gomme, non so se... Vediamo un po' le gomme. Non so se siete. Possiamo fare meglio. Si può fare meglio. Vai Mario. E lei come va? Tutto a posto? Benissimo, ci sono goduto il panorama andando piano, cosa che altri non fanno. Strano. Strano. Dovresti prendere un po' in mano qualche Harley e capire un attimino che forse... Ma tu aspetta, vieni, non hai un Harley. Il panorama va a chissero. Va a goduto. Ma tu non... Non si può fare che sta a correre. Ma tu non hai più un Harley. È vero? È vero, Nicola, non hai più un Harley. Hai una BMW, Nicola. Vieni, sei guarito, vieni. Nicola, sei guarito, qui c'è una BMW. Non è di ferro, è di plastica, non è di ferro, ragazzi. È incredibile, guarda. La sozzeria del quadro strumenti ci ha passato. È tutto molto bello. È tutto molto bello. È tutto molto bello. Molto lo pulisco, il quadro strumenti. No, è una moto fantastica, devo dire. Sei guarito, comunque, bravo. Ma no, no, a me mi manca l'Harley. A me piace l'Harley. Lo dico qua, davanti a tutti. Io amo ancora le Harley. Catenella Harley, va in giro con la catenella Harley. C'è ancora la mia catenella. Col bottone sbottonato. Col bottone sbottonato, però io amo ancora le Harley. Perché ha deciso di non rimanere a maniche corte. Strano, perché fa solo 12 gradi. Un caffè si riesce a prendere? Sì, come no. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. A Noca Strasse. È il tempo del caffè. Oggi, adesso, in questo momento, è il tempo del caffè. Vi salutiamo. Ci rivediamo su questo canale a quest'ora. Iscrivetevi. Mettete like. Mettete like a lucaabologna.it. Vabbè, la si è inventata. Ok, ciao. Ciao, ciao. I mufloni hanno mangiato e adesso ultimo pezzo Noca Strasse. E non lo so. Comunque, ci salutiamo qui. Ciao. 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 Grazie a tutti.